La trasmissione è offerta da Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Benvenuti a Disabili, ti amo. Siamo di nuovo insieme a Brunella Roscetti, ragazza in gamba. Brunella, avevamo chiuso la precedente puntata di Disabili Diamo parlando poco dell'associazione che tu hai creato e fondato. Continuiamo un po' a parlare di questa associazione, non prima di aver presentato anche l'altra ospite, un'altra ragazza in gamba, Antonella Cecilia. Buonasera. Una mazzone doc, ma dopo parleremo con lei. Torniamo a parlare dell'associazione. Allora, l'associazione è nata perché anch'io sono un'atleta parolimpica, per cui in questo momento si sta facendo forza per aiutare noi del parolimpico, della Fise Lazio, diciamolo, perché siamo della Fise Lazio. Sto cercando di trovare sponsor, di trovare delle persone che ci possono dare una mano per realizzare il nostro sogno. Il nostro sogno qual è? Arrivare ora agli europei e poi dagli europei, se riusciamo a fare una bella classificazione, arrivare alle parolimpiadi. L'associazione sta promuovendo questo progetto. Sto andando per le istituzioni, sto passando per i vari sponsor, proprio apposta, perché così in questo modo si conosce l'associazione. E nello stesso tempo io raggiungo l'obiettivo iniziale, che è quello di far conoscerci noi atlete del parolimpico. Quali sono le principali difficoltà che incontri in questa tua opera? Beh, molta gente è molto scettica, tutti ti dicono sì sì, ti diamo una mano, poi ai fatti ci ritroviamo davanti a un muro sempre più in alto, sempre più come una barriera. Invece questo non dovrebbe accadere.